si scappa questo brano che andremo a fare adesso è del nostro primo disco che si intitola Seymour Nightmare potete trovare il tutto al banchetto là in fondo e ci farebbe davvero piacere se fate un salto troverete Patrizia, salutiamola da qua ciao Patrizia! Patrizia e Morgana ovviamente tutte e due e anche Morgana che sapranno consigliarvi il disco giusto spero che poi non sia questo l'effetto che vi farà per l'odore ci attrezzeremo la prossima volta Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.